Non posso spiegarvi con le parole la gioia di poter annunciare a tutti che presto ritornerò nel mio amatissimo teatro di San Carlo di Napoli, sì perché sarò io a inaugurare la nuova stagione del 2021-2022 insieme ad un collega strepitoso quale Jonas Kaufmann e insieme saremo la coppia più bella del melodramma, cioè Desdemona e Otello e non vediamo l'ora, non vedo l'ora e non vedo l'ora di poter tornare nel teatro che io definisco da sempre il teatro della passione, dei sorrisi e dell'amore. E allora a presto, a presto, non vedo l'ora, un bacio grande grande e vi aspetto tutti, 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 tutti perché dobbiamo festeggiare. Ciao! Grazie a tutti!